Guerra in Ucraina, Mosca accusa Kiev di aver bombardato un ponte in Crimea. Secondo Zelensky, la Russia starebbe preparando un attacco alla centrale nucleare di Zaporizia. Elezioni alle porte in Grecia e nuova democrazia cerca la maggioranza assoluta. Ultimi grandi comizi dei partiti. Il Cremlino ha accusato Kiev di aver bombardato un ponte che collega la Crimea all'Ucraina meridionale e di averlo fatto con un missile di fabbricazione britannica. L'attacco non ha comportato vittime, ma la struttura appare gravemente danneggiata. Da parte sua, Kiev non ha rivendicato la paternità del raid. L'Ucraina ha tuttavia riconosciuto di avanzare lentamente nella controffensiva che punta a riprendere le regioni occupate dalle forze russe. Le truppe di Kiev continuano a liberare villaggi, ma sempre con combattimenti aspri e perdite significative. Anche per questo il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha esortato le potenze occidentali ad aumentare le forniture militari all'Ucraina. Parallel arbeiten wir mit unseren G7 und EU Partnern und der Ukraine an wirkungsvollen und langfristigen Sicherheitsgarantien. Unser Ziel dabei ist zweierlei. Die Ukraine nachhaltig, militärisch zu unterstützen, auch mit modernen westlichen Waffen. Und zugleich die wirtschaftliche Widerstandskraft der Ukraine in ihrem abwehrkampf gegen die russische Aggression zu stärken. Le perdite sono tuttavia gravi anche per la Russia, il che aumenta la pressione su Putin. Il capo del gruppo di mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha esortato il presidente russo a estendere la mobilitazione. Al contempo il Cremlino ha respinto le affermazioni del presidente ucraino Zelensky, secondo cui la Russia starebbe pianificando un attacco alla centrale nucleare di Zaporizia. L'Ucraina ha ancora molta strada da fare nel suo cammino verso l'Unione Europea, anche se qualche passo avanti è stato compiuto. Secondo la Commissione Europea, il Paese ha soddisfatto due delle sette condizioni necessarie per aprire i negoziati di adesione, la riforma del sistema giudiziario e un'adeguata legislazione sui media. Sono invece ancora necessari progressi in cinque settori, tra cui la lotta alla corruzione e al riciclaggio di denaro, la limitazione del potere degli oligarchi e il rispetto dei diritti delle minoranze. Il commissario europeo all'allargamento, Oliver Vareli, ha illustrato la situazione attuale ai ministri degli Stati dell'Unione, dettagliando i risultati raggiunti finora dal governo ucraino. A giugno dello scorso anno i Paesi europei avevano concesso a Kiev lo status di Paese candidato all'ingresso e ora si attende il passaggio successivo, l'apertura dei negoziati di adesione, che potrebbe avvenire già a settembre se tutti i requisiti stabiliti saranno soddisfatti. In Grecia, con le elezioni alle porte, Nuova Democrazia cerca di ottenere la soglia cruciale del 40% dei voti, che garantirebbe una maggioranza assoluta sicura per formare un governo a partito unico. Il principale partito di opposizione, la sinistra di Siriza, dopo la debacle alle prime elezioni del 21 maggio, sta affrontando un'altra grande sconfitta e la possibilità di trovarsi ancora più svantaggiata rispetto a Nuova Democrazia. La grande domanda che ci sippone e ora è quanti partiti minori riusciranno a entrare in Parlamento. Più ne entreranno, più sarà difficile per Nuova Democrazia. Il periodo pre-elettorale in Grecia si conclude venerdì sera con gli ultimi grandi comizi dei partiti. Il periodo pre-elettorale in Grecia. Il periodo pre-elettorale in Grecia. Fea e Ruggeri. Caldo e tempeste stanno colpendo gran parte dell'Europa e l'estate è appena iniziata. Queste immagini sono state girate questo giovedì all'alba nella città ungherese di Ekerbacta, dove durante la notte piogge torrenziali e ventiforti hanno causato danni a case e arredi urbani. La tempesta ha abbattuto decine di alberi. Ondata di calore anche in Slovenia da diversi giorni e in Italia. Diverse città, tra cui Roma, Firenze e Bologna, sono in allerta caldo estremo e le autorità moltiplicano gli appelli alla popolazione affinché si protegga dal sole. Dunque la prima ondata di calore è arrivata qui in Italia, toccando diverse zone, soprattutto questa settimana. Oggi sono previste temperature fino a 40 gradi in diverse zone. Bollino arancione è previsto in almeno 13 città, tra queste Roma, la capitale dove ci troviamo, ma anche Firenze e Bologna. Venerdì invece sarà la volta del sud, con ulteriori bollini e arancioni previsti in città come Bari e Palermo. E la Sardegna dovrebbe essere la zona più colpita, con temperature che potrebbero addirittura superare i 40 gradi. Il consiglio delle autorità è quello di rimanere il più possibile all'ombra, di evitare le ore maggiormente a rischio, ma anche di restare idratati. E chiaramente, come sappiamo, ondate di questo tipo non sono nuove in Italia due anni fa. La Sicilia registrò temperature in agosto che risultarono essere tra le più alte in Europa. E ondate di questo tipo, soprattutto all'inizio dell'estate, sono destinate a diventare più frequenti, quale risultato della crisi climatica. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma. Un tempo a figura politica di spicco, Bill Richardson ora lavora nell'ombra, operando dietro le quinte nel torbido mondo del rilascio dei prigionieri. Collabora col governo degli Stati Uniti. Dal febbraio 2022 gran parte della sua attenzione si è concentrata sulla Russia. Il suo lavoro come segretario all'energia degli Stati Uniti. gli ha dato accesso ad alcuni dei migliori circoli russi. Il resto, dice, si riduce la diplomazia. Sia Mosca che Washington stanno lavorando dietro le quinte per liberare i propri cittadini. Mentre i rapporti diplomatici tra Occidente e Russia si sono interrotti a seguito dell'invasione dell'Ucraina, questo lato poco conosciuto delle relazioni è ancora attivo e funzionante, almeno per ora. anche se ammette apertamente che le relazioni sono assai gelide in questo momento, nutre speranze per altri due detenuti che sta cercando di liberare. L'opinione sull'energia nucleare è cambiata in modo graduale, ma ormai quasi completo. Dalle proteste motivate dal rischio incidente e dal proprio stoccaggio delle scorie ancora risolto a un possibile alleato contro il cambiamento climatico, perché abbasse emissioni di gas serra. Uno sforzo comunicativo mentre il nucleare è in declino a causa dei costi sempre meno competitivi rispetto alle rinnovabili. Ma la convenienza di questa fonte di energia è ormai più geopolitica che economica. Entro il 2030 la Cina punta a diventare il primo produttore mondiale di energia nucleare e anche la Russia è un competitor di primo ordine in questo settore. Il nucleare è un'industria strategica che garantisce una posizione di rilievo sulla scena internazionale, anche se è sempre meno competitivo rispetto alle rinnovabili. Il nucleare è diventato di meno e meno competitivo. Il prezzo dell'elettricità e delle energie rinnovabili, in particolare l'eolio e il solare, è iniziato molto forte e oggi è meno caro di produrre dell'elettricità eoliana che dell'elettricità nucleare. Ma in questa ottica la scarsa convenienza economica può essere considerata un successo geopolitico. se migliora la proiezione di un paese nel mondo.